buongiorno pro gamer eccoci qua di nuovo per vedere un giochino non lo so ero curioso di vedere questo plug incorporated non so proviamo a vedere di cosa si tratta che praticamente la dovremmo creare un virus per distruggere l'intera umanità vabbè proviamo allora le opzioni togliamo subito la musica ecco qua e questo è fatto se no non bloccano pausa formatica on pop up extra funzione vibrazione on modalità di peccato cosa sarebbe modalità di peccato non c'è spiegazioni non so cosa possa voler dire momentaneamente lasciamo line off adesso vediamo un attimo come giocare game start seleziona un paese in cui iniziare l'epidemia in alcuni paesi è più facile crescere quindi scegli con attenzione tra i pro ci sono la presenza di un aeroporto un porto molti stati confinati paesi ricchi sono più difficili da contagiare inizia a infettare la gente la strategia è tutto non può contagiare direttamente paesi invece devi far evolvere la malattia in modo che sia più potente scegli bene la tua malattia si diffonderà sempre più velocemente raccogli punti di dna i punti dna ti permetteranno di evolvere di evolvere li otterrai automaticamente mano a mano che infetti uccidi la gente oppure manualmente premendo r2 per scoppiare le bolle rosse arancioni che appaiono vediamo un attimo allora modalità no metà gioco rispondi agli eventi in modo molto mondo molto dettagliate per realistico devi restare aggiornato su cosa succede ad essere preparato ad adattarti per sfruttare il debolezza evitare di essere sradicato diffonditi di più o evolviti più velocemente decidi come spendere punti dna con la diffusione della malattia girai furtivamente per non essere scoperto o sfererà un attacco letale provando a distruggere in fretta i paesi a te la scelta preparati per il contrattacco umano gli esseri umani non si limitano a morire senza fare storie quando si accorgono della tua malattia governi farne tutto per rallentarti e distruggerti fine del gioco uccidi tutti per impedire agli umani trovare una cura per impedire agli umani trovare una cura devono essere uccisi mano a mano che farà evolvere nuovi sintomi ne scoprirai alcuni che renderanno la tua malattia estremamente letale goditi le statistiche ti metti a disposizione tutti i dati che servono nella schermata al mondo puoi vedere chi sta spendendo di più per una cura quali paesi non sono infetti e molto altro ancora vittoria sono i più forti sopravvivono vinci quando muoiono tutti ma perdi se non rimane nessuno di infetto non lasciare che la cura venga completata o che la gente venga uccisa prima di poter contagiare qualcun altro malattia la velocità di diffusione della malattia determina quanto velocemente la malattia si diffonde all'interno di un paese e tra paesi molto importante un segno di quanta gravità un segno di quanto sia brutto prendere questa malattia rallenta la tua la ricerca della cura ti darà più punti dna la gente si accorgerà di una malattia grave e se ne occuperà letalità la facilità con cui la malattia può uccidere qualcuno può rallentare arrestare la ricerca la cura ti darà più punti dna la gente sarà molto più attenta a una malattia letale evoluzione sviluppa tutti trasmissione sviluppa nuovi vettori per contagiare la gente i tratti di trasmissione aumentano l'infettività inoltre danno un bonus a determinati paesi aumenta la possibilità di mutazioni della tua malattia sintomi cambia l'effetto della malattia i tratti sintomatici aumentano le statistiche della malattia come l'infettività rende più difficile la ricerca di una cura e potrebbe avere altri effetti speciali abilità personaggio personalizza i punti di forza della tua malattia i tratti abilità aumentano la resistenza della malattia al clima influenzano il successo di una cura molto altra ancora diffusione in un paese la tua malattia viene vive si diffonde organicamente passando spontaneamente da una persona all'altra tu dovrai controllarla e plasmarla usando il potere dell'evoluzione tra paesi più infetti ci sono in un paese più la probabilità che qualcuno di infetto vada in un nuovo paese via terra mare o aria i tratti di trasmissione possono fare diffondere più facilmente la malattia se un paese è isolato i governi chiuderanno aeroporti e confini se temono una pandemia gli uccelli e gli animali possono comunque attraversare paesi confinanti da terra per un per un'isola però è più complicato regioni panoramica paese in ogni paese è diverso e richiede una storia mirata scopri di più su un paese premendo x quando selezionato clima paese clima diversi influenzano la diffusione della malattia abilità e tratti di trasmissione possono aiutare la tua malattia ad adattarsi climi caldi e freddi sono particolarmente infidi ok dati demografici paese la geografia influenza diffusione della malattia abilità e tratti di trasmissione possono aiutare la malattia ad adattarsi i paesi ricchi sono più resistenti per via della loro sanità avanzata la cura cos'è la cura la cura è l'ultima speranza e sopravvivenza per l'umanità ogni paese spenderà dollari per la ricerca più un paese spaventato dalla sua malattia più soldi spenderà come per difendersi contro la cura come difendersi contro la cura se la sua malattia non fa paura i paesi non spendono molti soldi poi inoltre fa revolvere abilità come rafforzamento genetico e resistenza ai farmaci per rallentare la cura come fermare la cura rendendo più grave la tua malattia rallenterà gli scienziati uccidendo la gente rallenterà i lavori per la cura quando saranno morte abbastanza persone un paese non potrà più ricercare la cura eventi ed azioni squadre di ricerca malattia un paese invierà aerei blu carichi di squadre di ricerca nei paesi infetti per aiutare ad accelerare la cura puoi fermarti facendo scoppiare le bolle blu che appaiono mutazioni la tua malattia vive e si diffonde organicamente passando spontaneamente da una persona all'altra tu dovrai controllarla e plasmarla usando il potere dell'evoluzione azioni del governo il governo intraprenderà nazioni per rallentare la malattia salvare il mondo osservali tramite le news e le schermate delle nazioni ok statistiche classifiche incomi eccoci qua pro gamer intanto lì si sta sviluppando la malattia ma i video continuo a saltare perché non funziona probabilmente il joystick non mi fa il salvataggio dei clip video vi chiedo di avere pazienza comprerò un nuovo joystick nei prossimi giorni e vedremo intanto provo a vedere la malattia l'evolversi della malattia un secondo solo eccoci qua scusate per l'ennesima volta ma come sempre questo joystick che molto probabilmente spaccherò appena mi arriva quello nuovo non funziona non mi fa fare video mi trancia video a mezzo col tasto share che non funziona abbiate pazienza ok no 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.